Ecco, questo fatto del terzo mandato mi ha fatto un po' anche sorridere. Chiaramente sono felice che sia stato approvato perché riguarda tante amministrazioni, tanti comuni, mi pare 1500 in Italia, 1200, adesso non mi ricordo il numero. Però quando si scriveva sulla stampa, si scriveva che a Roma ieri facevano il terzo mandato per Gambini, come se l'avessero fatto solo per Urbino. Invece ci sono tanti comuni anche importanti come Vallefoglia, come Colli al Metauro, come Fermignano, come Urbagna, come Cagli. Tutti i sindaci che hanno questa possibilità si hanno governato bene e sono rivotati dai cittadini perché questa è la cosa importante. Non è che uno si candida per acclamazione e quindi si nomina per acclamazione, bisogna essere votati. Io, per quello che mi riguarda, con la mia maggioranza che mi chiede a gran voce di continuare questo percorso, dovremmo fermarci, decidere cosa vogliamo fare per il futuro. Perché io non mi candido tanto per candidarmi eventualmente, ma voglio sapere cosa facciamo. Anche con il peso che Urbino può avere a livello provinciale per sbloccare determinate situazioni che spesso rimangono bloccate perché non si prendono le decisioni. Allora è opportuno parlare prima dei programmi, ma che non riguardino solo i singoli comuni, ma che riguardano tutta un'intera provincia che deve svilupparsi e deve creare le infrastrutture per far sviluppare questi territori. Soprattutto, ovviamente, quelli dentro terra che sono più penalizzati, come è noto a tutti.